A te hanno insegnato che non si mettono in disordine le cose degli altri, vero? Abruzzone e Lapillo di certo non l'hanno insegnato! Anzi, loro sono esperti in distruzioni totali! Sono tutto muscoli e niente cervello! Tu, di un posto fastidioso, Lexonite! Smettila di dar fastidio alle mie creature! Credevo che i mostri resistessero un po' di più!